Siamo arrivati alla svolta per la piscina comunale Xenal nel cuore della città di Frosinone. Dopo anni di chiusura e di contenziosi, finalmente il comune è riuscito ad affidare in gestione l'intera struttura, che dovrà essere riqualificata con una mirata ristrutturazione. Il progetto prevede due stralci dei lavori, il primo riguardante tutto il complesso sportivo, piscine, due, una per adulti e bambini e l'altra solo per bambini, spogliatoi, aree tecniche, punto ristoro, ad eccezione dei campi da tennis, mentre in terra battuta. Il secondo stralcio, riguardante proprio questi ultimi, è il campo polivalente di cui si effettuerà la copertura. I lavori, a totale carico del privato, ammontano a 500.000 euro e dovranno essere eseguiti entro 165 giorni, naturali e consecutivi. La gestione durerà invece 29 anni, a decorrere dalla data del collaudo. La società vincitrice intende favorire l'attività di uno sport che ricomprenda tutte le fasce della popolazione. Saranno praticate anche tariffe agevolate, con un'offerta caratterizzata da una doppia valenza, quella educativa e di intrattenimento. Un bel colpo per l'amministrazione Ottaviani, che si ritroverà un'area riqualificata all'interno di un quartiere centrale del capoluogo e abbastanza popoloso, quello del Sacro Cuore, e restituirà alla città un luogo che diverrà un importante punto di aggregazione.